Grazie! Rimani! Grazie! Oh, oh! Mario! Vai da Luca! Prima che concludiamo il gol, lì... ...è il grito... ...è il riscatto... ...è il 2-1-2... ...è il 4-5-5-5... ...è il 4-5-5... ...è il 4-5... ...é il 3-4. Voi, vai, vai pra... Ma ti ricco quindi? Ma hai commiss philosio ilrze sean regolare... Ma hai mai giocato il completa? Sì! Per il era malice! Non era lo mai pubblico? Tu non hai mai visto! Não pare negotiated così, lui! Ciao!